Finalmente è cambiata qualcosa al cimitero di Foggia. L'erba che giorni fa invadeva le tombe è stata tagliata in parte dai dipendenti di Amica al lavoro da ieri mattina. Il Tg Blu alcuni giorni fa ha sollevato il problema documentando lo stato di abbandono del campo di via Manfredonia. Poi ha contattato l'assessore a ramo Pasquale Pellegrino che in poco tempo ha reso possibile l'intervento di bonifica del cimitero. In due giorni infatti è tornato così, come lo vedete in queste immagini. Tuttavia sulle tombe restano le erbacce che, assicurano, verranno tagliate entro pochi giorni. La situazione più critica è quella all'interno dei campi numero 5 e 6. In ogni caso la polemica sullo stato di abbandono del cimitero, sollevata dai cittadini, è solo una parte della convulsa della discussione circa la sua gestione in mano ad Unati, associazione temporanea di imprese che a breve dovrebbe concretizzarsi. La discussione adesso è tutta politica.